Denunciati i due operai per violenza sessuale avrebbero abusato di una collega all'interno del luogo di lavoro. I carabinieri di Sant'Egidio alla Vibrata, a conclusione di delicate indagini a seguito della querela presentata da un operaio 46enne cinese domiciliata a Sant'Egidio alla Vibrata, hanno identificato e denunciato due estracomunitari resisi responsabili in concorso del reato di violenza sessuale. Si tratta di due colleghi della donna, due operai, un 51enne cinese e un 36enne pakistano, entrambi residenti a Sant'Egidio. I due avrebbero costretto la vittima a subire un rapporto sessuale completo all'interno del laboratorio artigianale in cui tutte e tre lavoravano. A seguito della denuncia della donna sono partite le indagini e l'attività investigativa avrebbe permesso di acquisire elementi concreti di colpevolezza nei confronti dei due. I due colleghi avrebbero infatti, secondo la ricostruzione della donna e dei militari dell'arma, approfittato dello stato di ubriachezza della stessa per abusarne sessualmente.